Buongiorno a tutti, sono Antonella Locurto, coordinatore del regionale per la Wilka in Tesa San Paolo. Il fil rouge del mio intervento sarà a impronta cinematografica. Io amo tanto i film e devo dire che in queste tre giornate qualche spunto di riflessione collegato a alcuni film piuttosto famosi e sono riuscita a trovarlo. Sentendo parlare il dottor Massià, il dottor Lodesani, Patuelli, non so voi ma io sentivo nelle orecchie la famosa colonna sonora dello squalo, quando uno sente un attimo di perplessità rispetto a quello che viene detto perché sull'unitarietà del sindacato ad esempio, se è il dottor Lodesani che ci deve venire a dire che lui sta, non sa noi ma lui sta dalla parte dei lavoratori, io qualche domanda me la faccio e mi riallaccio a quanto detto da Agostino Megale e Giulio Romani da questo pulpito che il sindacato deve essere unito, dobbiamo tutti collaborare. Forse questa informazione oltre il Reggio Calabria non è andata perché da noi, i loro, certo non si comportano così e questo non fa altro, confermato appunto dal dottor Lodesani che indebolirci di fronte all'azienda. Ma finché non si riuscirà a superare la credine, l'istintiva voglia di combatterci sempre tra noi prima che nei confronti della parte datoriale e non si riuscirà a superare questa unpass, l'unitarietà del sindacato sarà solo un concetto espresso da un palco ma poi nella realtà non verrà applicato e di questo soltanto l'azienda potrà trattare beneficio. Un altro film che mi ha ispirato è nuovissimo, tra l'altro abbastanza recente, c'è una frase nel film Spider-Man che dice da un grande potere derivano grandi responsabilità. Quindi sarebbe correlato il fatto che da una grande responsabilità derivi anche l'obbligo di assumersi la responsabilità di quanto fatto. Da quello che si sentiva ieri sempre con lo stesso sottofondo e la colonna sonora dello squalo, sembra quasi che la colpa di determinate situazioni fallimentari di alcune banche oggi sia praticamente soltanto o dei colleghi che non hanno lavorato bene addirittura del piccolo risparmiatore che non riesce a restituirci il mutuo perché veramente ce la vogliamo raccontare che il problema è che lo Stato italiano non ci fa vendere le case in due piuttosto che in sette anni mi sembra un po' come dire offensivo nei confronti di quei clienti che con grande dignità ogni mese ci ripagano i mutui con difficoltà ma lo fanno a fronte magari di affidamenti un po' scellerati fatti a soggetti amici degli amici degli amici che invece venivano portati avanti come debitori eccellenti e che poi tali non si sono dimostrati. Quindi ahimè, ieri in alcuni interventi qualcosina avrei voluto chiedere però capisco che non è questa la sede. Un'altra cosa che mi piacerebbe dire rispetto ai giovani io ritengo di essere ancora per poco in realtà una giovane 33enne e dico che sfadiamolo questo mito che i giovani amano la flessibilità, che ci fa tanto piacere saltare di palo in frasca, cambiare lavoro un giorno ci alziamo e siamo segretari, il giorno dopo siamo operatori di Almaviva e il giorno dopo ancora lavoriamo da McDonald's. Essere giovani non vuol dire fare i salti in banchi essere giovani vuol dire studiare e avere un progetto di vita che in questo paese nove volte su dieci non riesci a portare avanti. Io faccio parte di una percentuale risicatissima di fortunati l'80% dei miei colleghi di università non vive più neanche in Sicilia e questo è triste. I giovani cercano stabilità, cercano sicurezza, non cercano la flessibilità il mercato ce la chiede, noi ci adattiamo, però il fine ultimo di un sindacato dovrebbe anche essere quello e mi riallaccio al discorso unitarietà delle sigle, dovrebbe essere quello di traghettare i giovani in un mondo del lavoro che è sempre più difficile, approfittare delle occasioni e ahimè devo dire che la mancata firma del protocollo ci ha, noi giovani ecco, ci ha lasciato un po' spiazzati e speriamo di portarla presto a compimento. E quindi vi lascio con un pensiero di un mio concittadino che è Tomasi di Lampedusa, dal cui celebre romanzo di Gatto Pardo è stato tratto anche lì un film eccellente. C'è una bellissima scena famosissima dove Don Fabrizio fa una riflessione e dice se vogliamo che tutto resti com'è, bisogna che tutto cambi. Allora intendiamo che cos'è il cambiamento il cambiamento non è semplicemente una facciata dietro cui nascondere sempre i soliti sporchi interessi il cambiamento è evoluzione, bisogna cambiare in meglio. Dire sono passata da qualcosa a qualcos'altro semplicemente per dire ho cambiato qualcosa non porta nessun valore aggiunto. L'evoluzione è un'altra cosa e noi giovani non sono d'accordo col collega che ieri ha detto il sindacato con i giovani ha già perso. No, i giovani si aspettano un'evoluzione, si aspettano di poter credere in un futuro e nel loro futuro di poterlo costruire senza avere paura di svegliarsi una mattina come il figlio della compagna e il collega e scoprire che si è stati buttati fuori. In questo il sindacato può e deve farsi promotore di una cultura diversa. Se il sindacato riuscirà in questo e riuscirà a riottenere la credibilità nei giovani così come ha fatto con me in realtà avremo vinto e sarà forse la più grande vittoria del sindacato di questi tempi. Grazie a tutti.